per essere individuati mi puoi vedere da là pensate si oh godo guardate più un po' lo lucifero ma è stupido la squadra d'attacco resta un operatore la squadra 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 uh grandissimo bravissimo un momento io che Jäger è bravo adesso vi begga non sono sopra te senti come uno sparare qua ma si è fatto saltare in aria da solo vabbè ci sta ci sta è arrivato questo uh pacchettino me lo farà aprire? ma vabbè schifo grazie grazie grazie